Allora in questo momento abbiamo dei problemi a portare avanti delle pratiche sul recupero dei sottotetti ma la legge Salva Casa comunque non si occupa solo di recupero di queste pratiche pertanto abbiamo già attivato con la regione dei canali di comunicazione per poter risolvere questo intoppo. Circa 4.000 pratiche per i sottotetti bloccate in Piemonte per un vuoto normativo. La nuova legge nazionale Salva Casa permette di sanare diverse piccole irregolarità. Per i sottotetti rimanda alle singole leggi regionali ma in Piemonte c'è un buco. L'articolo sui sottotetti della legge regionale sulla semplificazione edilizia è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. In attesa di una nuova norma a Torino si fa il punto sugli effetti generali del Salva Casa a quasi due mesi dalla sua approvazione definitiva. A confronto agenti immobiliari, architetti, ingegneri, geometri, notai, commercialisti. Organizza la FIAIP, Federazione degli agenti immobiliari. Una delle richieste che facciamo noi, anzi una proposta costruttiva, è quella di armonizzare le varie legislazioni tra quella regionale e quella comunale con quella nazionale affinché i benefici e gli effetti positivi di questa misura siano concreti per la comunità e per il mercato. La possibilità di sanare piccole irregolarità viene valutata positivamente per i suoi effetti sul mercato immobiliare in regione. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio che circa un 70% degli immobili che si trattano, che sono sul mercato o comunque che sono in mano alla proprietà, ha delle difformità, anche se lievi però ci sono. Difformità che vengono segnalate anche dalla relazione di irregolarità edilizia. Un'altra novità a Torino introdotta con un protocollo nel 2022 è che oggi viene utilizzata in circa il 40% delle compravendite.